Infissi in pvc a sette camere. Ciao sono William Misacchi di Infissi in Pisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Misacchi. Per rispondere a questa domanda ho qui con me un pvc a sette camere. Cosa sono le camere? Le camere sono queste, sono delle camere d'aria tra una parete in pvc che va a delimitare sia il telaio che l'anta. Questo è il telaio fisso, quello che va a muro, questa è l'anta apribile. Le camere puoi vedere qui ad esempio una camera, due camere, tre camere, quattro camere, cinque camere, sei camere, sette camere. Una casa veramente grande con sette camere. Scherzi a parte ecco le camere del pvc contano come due di coppe perché cosa significa? Io potrei fare un infisso piccolino con 16 camere, non esiste però è per far capire il concetto, e magari che ha prestazioni mediocre. Quindi il numero di camere d'aria non è così correlato alle prestazioni, è più uno specchietto per la lodule. Quello che devo andare a vedere è l'isolamento termico finale perché le camere d'aria servono un po' per dare sostegno al pvc perché se fosse monocamera senza nessun intermezzo sarebbe molto molto debole. Un po' serve per creare delle sedi dove infilare il ferro che gli dà rigidità e un po' anche per separare i moti convettivi. Per chi so dei fori troppo grandi all'interno dei profili l'area inizia a muoversi all'interno dei profili e l'area quando si muove perde una parte del suo potere isolante. L'aria nello stato fermo è un'aria che massimizza la prestazione termica. Quindi cosa succede? Se un infisso ha 5 camere che isola 10 e un infisso ha 7 camere che isola 2, quale sarà meglio? Quello 5, non la 7. Però noi esseri umani siamo sempre affascinati dai grandi numeri, no? Sembra che 7 deve essere per forza meglio di 5. E regola generale, sempre guardare le schede tecniche. Che da prestazionale. Esempio che rende ancora più chiaro il concetto, lo rende proprio veramente chiaro, è meglio un 8 cilindri o un 4 cilindri? Dici un po', meglio l'8. Dipende dalle prestazioni, perché se l'8 è un trattore, il motore di un trattore, il 4 è un 4 cilindri turbo, il motore della Formula 1, forse è meglio un 4 cilindri. Anche se di primo acchito dici l'8 sembra meglio del 4. Ecco, il mondo del PVC, degli fissi in generale, comunque è complesso, ci sono tante cose da capire e in alcune di queste cose ti rimangono dei dubbi. Vuoi essere consigliato nella scelta giusta e purtroppo quando devi acquistare nuovi infissi non esiste, oppure non esisteva un consulente per infissi, ma ti rivolge a chi te le deve vendere e chi te le vende avrà un evidente conflitto di interessi, puoi approfittare del servizio di consulenza con Sistema Bisacchi. Se vuoi sapere di più vai su www.blogbisacchi.it e ti aiuterò a fare tutte quelle scelte dove ancora hai dei dubbi e dove ancora nessuno ti ha convinto. Ciao e al prossimo video! Ciao! Ciao a primi! Grazie a tutti.